il massaggio tantrico non è stimolare l'energia, l'energia sessuale ma serve a consentire il fluire libero dell'energia nel corpo è molto più potente se al massaggio viene abbinato l'uso del suono non suono mentre si massaggia ma subito dopo è un processo meditativo fate attenzione se utilizzate l'incenso che sia incenso naturale se ascoltate musica che sia musica tranquilla quindi praticamente non vuoi interferire nella vita della persona qualunque rumore, qualunque suono, anche la musica è troppo a volume, troppo forte disturba il viaggio della persona quando si massaggia qualcuno sensualmente deve essere su una matrice, sul pavimento non su un tavolo non su un tavolo da massaggio ma un materassino sul pavimento è bisogno che la connessione tra voi e la persona massaggiata sia costante la bellezza del massaggio tantrico è che prima di tutto si prende la persona come un bambino è come se la persona fosse un bel bambino quindi come lie down con il tuo head ok see questo? questo è come iniziare quando sei iniziare come iniziare Quindi è così la posizione proprio per iniziare la testa e la testa nel secondo chakra e questo consente di arrivare a uno stato di profondità molto rapidamente. E si comincia sempre dalla testa. Non muoviamo la testa bruscamente. Molto delicatamente. E si comincia in questo punto. E si comincia in questo punto. E si comincia molto delicatamente. Ok? E poi si scende. Fate attenzione a non trascurare nessuna parte del corpo, nessuna posizione. Guardate. Come si lavorano, deve essere calcoli e devi essere tranquilli. E devi divertire con la testa. E poi prendete la seconda parte. Ora ci prendete la seconda parte. E hai avuto la seconda parte. Prima di fare la seconda parte. Si. Coprite le altre parte. Come? Qual would you mean by cover? La prima parte ti fai e facciam la seconda parte senza utilizzare la Project. Quindi poi passate alla parte successiva senza una sovrapposizione, scorrete e poi scendete. Quindi fate tutta la testa e poi raggiungete il punto in cui comincia la corona vertebrale. Continuate fino al punto in cui comincia la colonna verticale. Quando avete completato la nostra parte della testa, si tratta di condividere amore. E poi passate all'orecchio, molto lentamente. Sto cercando di attivare l'energia nella persona, invece di massaggiare la persona. Non è un massaggio in cui si esercita pressione. Ricordate ieri quando ho parlato di come si tocca? Come una piuma. Con lo stesso tocco leggero. E poi quando volete girare la persona, spostare la testa, lo fate molto, molto lentamente. Ricordatevi che la persona è già entrata in uno stato meditativo. Qualunque movimento brusco, qualunque silenzio, può interrompere questo stato e riportarla a uno stato di consapevolezza. E' molto rilassata in questo momento. E' molto rilassata in questo momento. Se vuoi trovare qualcuno che si rilassano o non, spostate gli occhi. Ora che ho parlato, si muove un pochino. Per rendervi conto, se una persona è effettivamente rilassata, osservate gli occhi. Anche se sono fiusi, si può notare un leggerissimo movimento. E allora non è di un tutto rilassata. Si tratta di un amore, non massaggiare. Non è il massaggio con una maggiore pressione. La pelle è dotata della capacità di sentire. Se i nervi si tendono, anche i muscoli si tendono, si contraggono. Le terminazioni nervose reagiscono piacevolmente, positivamente alla tenerezza. Mentre reagiscono in maniera negativa alla pressione, allo strumento. Le nervi si tendono come questo. E' per questo motivo, con molti massaggi profondi profondi, si tratta di sfruttare i muscoli. Si tratta di sfruttare. Ma poi, in una settimana, si tratta di sfruttare. Per questo motivo, quando si esercitano, invece, i massaggi profondi, con una press pressione profonda, bisogna proprio rompere quasi i tessuti, le resistenze dei tessuti. E poi, dopo poco, in realtà, si contraranno di nuovo. Dopo poco, in realtà, si contraranno di nuovo. Perché? Perché? Qualcunque cosa facciate, se facciate con tendenza, andate molto presto. E' bellissimo. E voi, come terapia, piacere. E il ricever, il giver e il ricever, si piacere. Ma il ricever riceve prima. E questo vi consentirà di andare molto più in profondità. tanto voi quanto il ricevente. E ricordatevi che, in realtà, è colui che dà che riceverà il primo. Quindi, come terapisti o come amanti, siete voi i primi a ricevere. Tutte le pratiche, tutte le pratiche, il personale che dà, il trattamento o il amante, il giver è il primo. E il ricever è il secondo. In tutte le pratiche tantriche, ricordate che chi dà è il primo. Quindi, se avete un partner e fate l'amore con un partner, siete voi i primi a goderlo. E poi, il tuo partner, il mio partner, forse è il secondo effetto. E poi, il secondo effetto. Perché quando vuoi fare questo, andate in profondità in te. è la vostra stessa intensità che procede con un'altra cosa. È la vostra intenzione. È la vostra intenzione prima di tutto. Questa è la vostra intenzione. Questa è la vostra intenzione. una volta, gli sveglia di seguente. Ho avuto una mano. Ho avuto una mano, ho avuto una mano nella mia lingam. Le mani. Non nella mia lingam, ma nella mia lingam. Allora, lei è la mia lingam. Di me, sensualmente. Non seggio, ma sensualmente. Insomma, la seggia è sensuale. Ricordate la differenza tra sensuale e sessuale. È un luogo divino molto divino. È la debolezza dell'essere umano che ha reso il sesso quasi una religione. La religione del vero moderno è il sesso. Incluso la traduzione del tantra a pratiche sessuali. Quindi trattate questa persona come un figlio divino. Quindi trattate la persona in massaggiata del corpo. No, no, no. Guardate le mani di movimento. La prima cosa è di non massaggiare il cervello. Non vuoi stimolare le parti erotiche. Non toccate la yoni, non toccate. No, no. Se toccate il seno, toccate la yoni. Quindi fate attenzione a non rendere il massaggio qualcosa di sessuale. Se volete in realtà coltivare lentamente, progressivamente in voi una nuova cultura in cui il sesso è portato l'amore, e io non sono culo di portare l'amore, ma il maestro sta facendo l'amore, la moglie di Michele, Michele lo guarda ma è molto naturale. Perché non c'è un'intenzione sessuale, non c'è volgarità, è una adorazione divina, è come me adorazione divina. Quando la vedo così, mi rendo conto di aver fatto l'amore. E non ho nemmeno cominciato perché l'altro ho fatto solo a destra. L'altra cosa importante è stare attenti a non perdere mai la formazione. Molti realisti dimenticano questo aspetto, perdono il contatto. Se vi muovete intorno a un tavolo, per esempio, la persona che si posta sul tavolo, perdete continuamente la connessione e poi la ritrovate e la riperdete. Ogni volta che perdete il contatto e poi la ritrovate, c'è un cambiamento di stato, di condizione. In questo momento la persona mortiziana è in uno stato alfa, e in realtà volete mantenerla in questo stato alfa fino alla fine del massaggio. Se volete essere buoni amanti, dovete entrare. Se volete essere buoni amanti, dovete entrare. Perché vi mostrerò il prossimo movimento, questo è molto, molto importante. Come se voglio spostare, adesso voglio spostare la tiziana. E poi devo prendere la testa, delicatamente, muove la lega molto lentamente. Ok? E poi muove la gamba, anche se è difficile. E poi puoi prendere la posizione per un tempo. Poi la trattate alla mano in questa posizione. Non è molto alto, è solo un piccolo. per fare un po' di tanto, anche se stessi spostare. Con un cuscino sottilissimo e poi prendete l'occasione, con questo libero con la testa. Quindi prendete un cuscino sottilissimo e poi... Mantenete la connessione con la testa e poi lascostate. e poi guardate gli occhi per vedere se la persona ha mantenuto lo stato meditativo o l'ha ritrovato. Questo è un elemento fondamentale. Il resto di questo lo mostrerò e poi prenderemo insieme. Questo non sarebbe in video, quindi si intende il video. Grazie.